Bella a tutti e grazie a tutti e benvenuti nel sesto appuntamento con la nostra Master League, signori, e con la nostra Roma. Se riusciremo a raggiungere l'impresa non lo sappiamo, non lo sappiamo, signori, noi ci proviamo ogni giorno. Ricordo che mi sono dato al massimo due stagioni per riuscire a ottenere la divisione 1. Siamo ultimi dopo cinque giornate, dopo cinque giornate siamo ultimi, abbiamo ottenuto un pareggio nella scorsa partita contro la Fiorentina e la vedo ancora sempre peggio. Detto questo, signori, io non perderei altro tempo, partirei subito per andare alla prossima partita. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date a serie e al canale. Detto questo, signori, prepariamoci, vediamo un attimino cosa ne esce da questa partita. Allora, cerchiamo un attimino di capirci qualcosa. Io ogni volta cambio formazione, signori, se voi avete dei suggerimenti, datemi lì, perché... No, giochiamo così. Bene, cambiamo i giocatori. Andiamo a mettere, voglio sempre Killing Ximas, no. A posto di Ximas mi devi mettere Matt, che è l'autore della vittoria dell'altro giorno. Castello a un momento in mezzo, Miranda sulla sinistra e Balotto sulla destra. Vabbè, proviamo così, signori. Contro chi cazzo la giochiamo? Che non ho una nuova idea ben chiara. Contro il West Ham, bene. Prenderemo un'altra batosta contro il West Ham. Chi lo sa, signori, chi lo sa? Siamo qua. Siamo qua e vedremo, siamo qua e vedremo, vediamo cosa riusciamo a fare. Scorsa puntata col pareggio con la Fiorentina siamo riusciti a ottenere i nostri primi due punticini bonus. L'obiettivo è raggiungere 24 punti per comprare un certo Babangida, signori. Che è un giocatore abbastanza veloce da tenere sulla fascia che dovrebbe darci un po' più di spunti. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, ti taglio le gambe, porca miseria. Ok, dai, dai, calma, calma. No, 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 no. Allora, il nostro grosso problema è che prendiamo gol sempre all'inizio del... No, che brutto fallo. No, 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 meno male. L'ufficio del cartellino rosso subito sventolato dopo quattro minuti sarebbe stata la tragedia più totale, signori. Cartellino rosso sventolato dopo quattro... Bella, 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 bella. Ci siamo andati a infilare malamente con Bolatta. Anche Bolatta farà un volo di quelli che uno dice, ma da quando gli uomini possono volare? Ecco, Bolatta sarà il primo che volerà verso l'infinito e oltre. Però va bene, riusciamo a recuperare... Matt, Matt, grazie, grande Matt. Grande Matt, metti tu ordine, metti tu ordine, Matt. Fuori sta palla, fuori sta palla. Non riesco a uscire, signori, non riesco a uscire. Siamo sotto assedio. Come, perché non riesco a giocare sto cazzo di gioco? Mannaggia di una miseria infame. Perché non ci riesco a giocare? Ci sono sempre riusciti a giocare questo gioco. Perché non ci riesco a giocare? Mannaggia! Sinclair, hai rotto le scatole. Vattene a suonare la musica, Sinclair mio. Perché devi venire a rompere le scatole a me? Quale la para? Calma, 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 calma. A chi la diamo? Qua, sulla fascia. T'avevo detto sulla fascia, però va bene. Lo prendo come un comando che è accettato. Lancialo, lancialo. Grandissimo Bolatta. Bolatta, 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 Bolatta. Bolatta uno di noi, Bolatta uno di noi. Crossala con calma. Tira, tira. Nooo, cazzarola. Castello di controllo sbagliata. Ma porca miseria. Dai, dai, segni di vita, segni di vita. Segni di vita da parte di questa Roma. Segni di vita da parte di questa Roma. Mannaggia, managgia. Grandissimo. Ok, calma, 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 calma. Guarda, guardalo, guarda, guarda, Bolatta. Bolatta, che solo? Bolatta, che solo? Bolatta ci crede? Bolatta ci crede? La tira? Nooo. Cosa ci ha parato? Bastardo. E noi ci crediamo ancora, noi ci crediamo ancora, noi ci crediamo ancora. Guardalo, guardalo. Metta, 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 metta. Se gira, ci crede, metta. Di quanto l'ha sbagliata, Metz? Ma questi sono errori che non dobbiamo fare, signori. Sono errori che non dobbiamo fare. Porca miseria. Sottoporta non possiamo sbagliare così. Sottoporta non possiamo sbagliare così. Mannaggia, la finiamo di fare. I giochi. Guarda, guarda, Bolatta, Bolatta, Bolatta. Bolatta è uno di noi. Bolatta è uno di noi. Miranda, Miranda è ritardissimo. Miranda è ritardissimo. Non so a chi darla, non so a chi darla. Mannaggia, managgia, managgia, managgia. Ok, siamo ripartiti. La teniamo ancora noi. Siamo ripartiti e la teniamo ancora noi. Calma, 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 calma. Grandissimo Bolatta. Bolatta. Bolatta la crossa ancora al centro. Perché siamo così sfortunati? Mannaggia, cosa abbiamo sbagliato, signori? Porca miseria, cosa abbiamo sbagliato. Cosa abbiamo sbagliato? Grandissimo, Valeri, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. No, Valeri mio. Mi ha sbagliato un passaggio facilissimo. Siete in tre su una persona. Non ve lo vorrei dire, ma siete in tre su una persona. In difesa, chi ci sta? Va bene. Siamo riusciti a uscirne. Bolatta. 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 Cerca lo spazio, Bolatta. Dai, 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 dai. No, 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 no. Sinclair fa quello che vuole. Sinclair fa quello che vuole. No, 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 Ivanov. Meno male, meno male. Ci ha salvato Ivanov. Via, 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 via. Ma porca miseria. Wonkopi. Wonkopi. Chi cazzo l'ora è Wonkopi? Uno di un metro e novantatré. Porca miseria. Dai, cazzarola però. Cazzarola di una miseria. Cazzarola di una miseria. Abbiamo sbagliato tantissimo. Abbiamo sbagliato tantissimo. Abbiamo sbagliato tantissimo. Avevamo tutta la possibilità di portarci in vantaggio. E invece ci siamo mangiati tutto. Ci siamo mangiati tutto immangiabile. Vai Bolatta. Vai Bolatta che su quella fascia comandi. Vai Bolatta che su quella fascia comandi. Non si sa che cosa comandi. Però va bene. Però dettagli. Dai che fuori. Ok. Addirittura c'è di canio, signori. Nel West Ham c'è un certo di canio. Ma dagli la giusta. Mannaggia. 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 Esfimas. Esfimas. Che torna su quella fascia. Esfimas. 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 Ci ha provato a costarla. Noi siamo arrivati al trentottesimo. Dai. 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 Signori. È il West Ham. È il West Ham. Possiamo riuscirlo a pareggiare. Porca miseria. Porca miseria. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Via sta palla. Via sta palla. Via sta palla. Calma. Calma e sangue e freddo. Calma e sangue e freddo. Parti. Parti e bollata. Parti e bollata che non ti tiene nessuno su quella fascia. Parti e bollata. Prima del bello. 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 No. Era nostro. Era nostro ragazzano. Era nostro. Bravissimo Matt. Che la corsa con calma. Ma chi? Matt mio Ma chi? Cazzarola di una miseria Neanche i passaggi giusti riusciamo a fare Eh, vabbè, è finita È finita, è finita, signore È finita, è finita È finita, è finita Minuto di recupero Guardalo, guardalo, guardalo Dai, 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 ripartiamo, ripartiamo Dai, dai, dai Ma che cazzarola di palla di servito Dai, dai, ma porca Dai, dai No, ma perché indietro? No, vabbè, sì C'è qualche problema col gioco Non è normale che questi mi fanno questi errori così di passaggio Di interazione Dai, ma porca miseria Non è normale, non è normale Quanto devo fare? Due stagioni Due stagioni con questi qua Ma stiamo a scherzare Ma stiamo a scherzare Mi vogliono far uscire È peggio di FIFA sul gioco È peggio di FIFA Attenzione, attenzione, provaci Miranda, si è trovato lì Si è trovato lì, Miranda Dai, 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 dai Giocala bene così Bene così, bene così Guardano, guardano, guardano Guardano, girano e tira Ci Non so come, signori Esprima se la pareggia Esprima se la pareggia Siamo vivi, signori Siamo vivi Bellissimo il tocco E poi il piano piano Uno a uno Uno a uno Siamo vivi, signori Siamo vivi Questo è importante Questo è importante Siamo vivi Quest'oltre siamo stati noi a pareggiare Non a farci pareggere No, no, no Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non voglio piangere Voglio piangere Non ci credo 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 In quattro minuti abbiamo pareggiato la partita L'abbiamo nuovamente buttata alle ortiche Cioè, boh Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso assolutamente credere Buttare Tutta l'artica Abbiamo preso un attimino di coraggio Sul calcio d'angolo E va bene E va bene Eravamo andati sull'uno a uno Eravamo andati sull'uno a uno Porca miseria L'uno a uno L'uno a uno Potevamo tranquillamente Dai, lo ferma qualcuno Potevamo continuare a giocarci Invece no Invece non abbiamo preso il dopo Tutto da rifare per la Roma, signori Tutto da rifare Tutto da rifare Abbiamo dei giocatori che saltano Che sono dei Dei Piccolissimi, praticamente Come fanno a saltare di testa questi? Porca miseria Ma chi? Ma chi? Mannaggia 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 Ma chi? Occhio, occhio Io devo farmi un corso Per giocare a pezzi, signori Io non so giocare a pezzi Mannaggia Mannaggia Posso Dai Va bene, va bene Calma Guarda, guarda quello laterale Guarda quello al lato Guarda quello al lato Perché dagli giochi sempre lì? Mannaggia Parti, parti Jorga Parti Jorga E il mandalo Mandalo Bolatta Mandalo Bolatta La Bolatta mia Però dai Ecco, un cazzarolo di dribbling Lo devi saper fare Dico, io non ti chiedo Di essere il miglior Esterno del mondo Però cazzarolo Un cazzarolo di dribbling Devi riuscirlo a saperlo fare No? Questo ha recuperato un pallone L'ha servito di tacca A qualche compagno Che non c'era nessuno Ecco, di nuovo Sinclair Mamma mia Era da solo Era da solo davanti d'aria Era da solo davanti d'aria Diciannovesimo Diciannovesimo Abbiamo pochissimo tempo Per pareggiarla No, 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 no Signori Non è il gioco che fa per me Niente da fare No, 2-1 Secondo me è sotto 2-1 Sto proprio messi male La disfatta delle disfatte Proprio Non sto alzando bandiera bianca Signori Perché ancora Abbiamo Abbiamo tanti obiettivi Tanti obiettivi Tante partite davanti a noi Quindi Tutto è ancora Tutto è ancora possibile Tutto è ancora possibile Guardalo Guardalo Doi co Ora ditemi voi Come possiedere Eravamo 3 contro 3 Eravamo 3 contro 3 Signori E io non sono riuscito A fare una cosa Una cosa giusta Calma 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 Guardalo Guardalo Lancialo Vai bolatta Vai bolatta Vai bolatta Io credo in te Bello il cross Sì Vabbè Ma se c'ho quelli che sono alti Un metro e una tic tac Come faccio io a pensare Di voler Di voler segnare con i cross Espimas Espimas Tu provaci Tu provaci Espimas Mannaggia 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 A chi A chi Cazzarone La miseria A chi A chi A chi Sto pallone Non devi marcare dall'est Guarda 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 Liberissimo Di crossare Tranquillo Non c'è nessuno A centrocampo pronto Per prendere il pallone In testa Questi si stanno a fare Quello che vogliono Beh Bravissimo Ma chi Ma No Vabbè Dai Dopo questo Valery Vattene Vattene tu Valery Vattene 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 Lancia Lancia Ma No Vabbè Ma stiamo a scherzare Ma 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 C'è da uscire pazzi Signori Ma questi Non s'hanno fatto Passaggi di fila No 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 Non ci posso Non ci posso Assolutamente Credere Valery Riesci a farmi Un filtrante giusto Riesci a farmi Un filtrante giusto Per lui Oh Perfetto Poi Perché Sempre Perché Sempre Ma dritto Per dritto Ma sempre Tutto di lato Che mi fai perdere L'altro tempo Perché Perché Porca miseria Dai 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 Calma Calma Guardalo 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 Gira e tira Gira e tira Mannaggia Cazzo Cazzo Comunque Il West Ham C'hava Giocatori come Rio Ferdinand Paolino Di Canio Che non Ok Però 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 Interessanti 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 Tu cross Tu cross Tu credici Un cross Un cross Non riusciamo a fare un cross No Dai Che però Che paranoia Non ci posso credere Non ci posso credere C'è qualcuno Che ci va a difendere No Non ci va nessuno Difendere Beh Non gli andava a nessuno Di difendere Non gli andava a nessuno Minuto di recupero Riusciamo a pareggiarla Riuscissimo a pareggiarla Mannaggia Mannaggia Niente Non riusciamo a fare nulla Signori Niente da fare Vale Riesce a recuperare il pallone Prova un tocco di tacco Vaffanbagno Altra sconfitta Signori Altra sconfitta pesante Contro pure il West Ham Niente da fare Niente da fare Mannaggia 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 Come direbbe il buon Telecronista L'avevamo pareggiata Con Espinas Espinas E un minuto dopo Sinclair Ci ha pareggiato Va bene Dai proprio signori Purtroppo per ora Gira così Per ora gira così Ma noi non demordiamo Non demordiamo Abbiamo ancora i nostri bellissimi 22 punticini Che ci conserveremo Fino a quando non riusciremo A fare il mercato In maniera giusta Detto questo signori Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi studenti E per il supporto La classifica diventa sempre peggio Però Però non demordiamo Non demordiamo Andiamo avanti Andiamo avanti Signori Ci vediamo domani Con un prossimo video Bella raga Ciao